Bentornati sul canale Amo gli italiani. Oggi con le ultime notizie come Loredana Lecciso, una delle showgirl più note della televisione italiana La sua storia d'amore con Albano Carrisi fece molto scalpore Ma sapete che lei si è lasciata andare ad una confessione scioccante? Non ci crederete mai Loredana Lecciso e Albano Carrisi. La famiglia Carrisi è una delle più note e chiacchierate del mondo dello spettacolo Dopo la storia con Romina Power, Albano ha avuto una relazione con Loredana Lecciso nel 2000 La loro relazione fece molto scalpore, ma dopo diversi anni i due decisero di prendere strade diversi Ancora oggi, tantissimi fan sperano in un ritorno di fiamma. Anche se sembra impossibile che la coppia torni di nuovo insieme Ma sapete che dopo anni, Loredana si lasciò andare ad una confessione clamorosa riguardo il noto cantante pugliese? Una rivelazione che fece molto scalpore, incredibile, scopriamo di più Loredana Lecciso e Albano Carrisi. La loro storia d'amore. Loredana Lecciso, da anni fa parte del mondo dello spettacolo italiano, ma è finita nel polverone dell'attenzione mediatica soltanto dopo essere uscita allo scoperto con Albano Carrisi Lei è una delle donne più conosciute della cronaca rosa italiana Punto Una delle storie d'amore più chiacchierate e lunghe di sempre Ma dopo anni hanno intrapreso strade diverse a causa di alcune importanti incomprensioni Loredana Lecciso e Albano Carrisi. All'inizio non è stato facile, ma dopo tempo hanno messo da parte l'orgoglio, mantenendo poi un bellissimo rapporto Il cantautore pugliese, ha rilasciato un'intervista al settimanale Gente, dove ha parlato di Loredana Lecciso, dichiarando È bella, intelligente, attenta, pratica. Abbiamo avuto momenti neri, ma in tutto questo tempo mi sono piaciute la sua solidità e la voglia di famiglia Questa evoluzione ci regala oggi un equilibrio e una dimensione più maturi Albano ha speso delle bellissime parole nei confronti della showgirl Ma sapete che tempo fa, la donna si lasciò andare ad una confessione clamorosa, ovvero, che il cantautore pugliese non è il padre di sua figlia, scopriamo di più . Loredana Lecciso, la sconvolgente confessione su Albano.Sebbene Albano le abbia fatto da padre, Loredana Lecciso ha rivelato che non è sua figlia Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma la showgirl, ha avuto una relazione con un altro uomo prima della storia con il cantautore pugliese È stata sposata con Stefano Cazzato e dal loro amore è nata Brigitta La ragazza, ha un bellissimo rapporto con sua sorella Jasmine e Albano J.R. Carisi È anche legatissima ad Albano, che l'ha cresciuta proprio come ha fatto con i suoi figli . Brigitta Cazzato. È stata proprio la Lecciso a rivelare, anche se non è sua figlia, Albano si è comportato davvero papà con Brigitta La loro famiglia allargata è davvero unita e fantastica, non c'è cosa più bella Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao